Ciao a tutte, bentornate finalmente in un nuovo vlog. Oggi è sabato 28 di febbraio e oggi ci sarà un altro vlog, dato che lo volevate da tantissime, ce ne sarà uno oggi e poi un altro domani che saranno tutti e due bellissimi. Sono le 9.27 e ora sto andando a casa di una mia amica a fare un compito di musica, che c'è anche un altro nostro amico che ci ha messo in coppia, che siamo in tre e quindi siamo in coppia, siamo anche in un minuto perché abitiamo molto vicine. Poi oggi pomeriggio ci sarà il compleanno di mia sorella, cioè festeggia il suo compleanno, anche se poi il suo compleanno è il 5 marzo, però oggi lo festeggia con gli amici del ballo. Poi io non sto fino alla fine al compleanno di mia sorella perché poi ci sarà un altro compleanno di un'altra mia amica e quindi andrò da lei, però non dormo là e basta. Ok, quindi adesso andiamo a casa della Carolina appunto, che si chiama Carolina, una persona in cui, cioè, dove sto andando, cioè, sto andando dalla Carolina, ecco. Allora, sono arrivata a casa della Carolina che non si vuole far vedere. Vabbè, e adesso stiamo scrivendo una canzone che praticamente ci dobbiamo inventare una gazzola. Non metti a fuoco. Andiamo molto avanti. E quindi adesso finiamo di scriverla. E oggi è una giornata bellissima, non so se si riesce a vedere. E non c'è Allegro. Infatti, perché doveva venire anche Allegro, però non è venuto e questo è un bel problema, perché dovremmo fare tutto da soli. Cioè l'incontro ce l'avevamo alle 9 e mezza qui a casa della Carolina, però sono le 10.04, lui non è ancora arrivato, cioè, guardate l'ora. 10.05 per la precisione. Dai Carolina vuole venire? No, non vuole venire. E quindi dovremmo fare tutto da sole. E comunque è anche lì l'orario. Bene, ora noi continuiamo a lavorare, vero? Sì. Allora, sono le 10.50, non so quello che voi potrete vedere, comunque eccolo qui. E noi abbiamo quasi finito la canzone, cioè insomma, dobbiamo mettere a posto il ritmo, comunque è convinto la Carolina a farsi vedere. Farla. Ciao. Ciao, lei è la Carolina. Bene. E appunto sta roba qui. E il nostro altro compagno non è venuto, si vede che proprio non ne fregava. Niente. E quindi le abbiamo dato un pezzo d'arte righe. Piccolissimo. Adesso stiamo facendo pausa merenda, che la mamma della Carolina è stata super carina, ci ha portato i ringo e questi biscotti. Aspetta Carolina che gli faccio vedere. Si chiamano hit, che si chiamano come hit, che lei li compra in Spagna, perché lei è spagnola. Spagnolita. Comunque ecco, pausa merenda, con i ringo, l'acqua, normalissima. Stiamo anche cantando con il microfono. E abbiamo fatto anche vedere le foto, adesso ve le faccio vedere. Allora, apriamo in ginorme. Ecco, tipo questa è bella. Questa è l'unica che è venuta bene, insieme a questa. Ne abbiamo fatte 3000, ma le altre sono bruttissime, vero Carol? Molto brutte. Quindi, io comunque sto a casa della Carolina fino all'undici e mezza, più o meno, però se finiamo prima. E io voglio rubare un pupazzo alla Carolina. Cioè, guardate, a Rilakkuma, o con Rilakkuma, non so chi è. Comunque, cioè, è stupendo. Ho messo anche una foto su Instagram con Rilakkuma e questo pupazzino. Carolina, mi dispiace, ma ti devo rubare questo pupazzo. No, grazie. Cioè, è troppo bello. Guardate quanto è bello. Carolina, lo regali, vero? No, no, non me lo regala. La Carolina è diventata cattiva. No, dai, vabbè. E quindi adesso noi finiamo. E arrivederci. E arrivederci. Grazie. Addio. Dopo la Carolina non la vedrete più, penso. Quindi saluta Carolina bene. Ciao. Ciao fan. Ciao followers. Ciao. Ciao. Guardate che bella giornata. È brava, parla in spagnolo. Cioè, è una giornata troppo bella. Guarda, Carol. Oh, così domani finalmente facciamo il carnevale. Sì? Perché è due domeniche che lo saltiamo perché è brutto tempo. Bene. Adesso tipico... Tipico... Cioè, adesso si p***a con un tipico piatto bolognese i tortellini. Quindi... Buon appetito! Allora ragazzi. Sono le 13 e 35. E io sono sul computer perché sto facendo una ricerca per storia. Aia. Di storia per lunedì. E ho già pranzato appunto, come avete visto. E adesso... Cioè, devo fare una ricerca di storia sulle lingue neolatine. E adesso lo sto finendo. Mi manca solo una cosa. E dopo l'ho finita. E vai! È suonato! È arrivato mio papà con mio fratello che è andato a prenderlo a scuola. E quando arriva mio fratello suona sempre. Quindi... È arrivato mio fratello. Ma uffa, perché non riesco a fare copia e incolla con sta immagine? Vabbè. Quindi adesso continuo la ricerca. Comunque c'è, ve la faccio vedere. Dato che domani ci sarà un altro vlog insieme alla Martina e alla Giulia. Ora vi spiegheranno quello che faremo domani. Allora, domani ci troveremo a Casa dell'Ambra e andremo al carnavale. Al carnavale. Vai, parla a te Martina. Poi cosa facciamo? Abbiamo preparato un balletto. Nella canzone... Dangerous da Ricchetta. Dangerous, dangerous, so dangerous, so dangerous, on time. And I want to love to see you. E poi... E poi questo balletto lo faremo davanti al carro. Sotto il carro. Con una giuria. Esatto. Così, non vedo, non sento, non parlo. Vai, tu fai non vedo. No, però non si riusciamo per digitare. Vai, esatto. Io faccio non sento e tu non vedo. No, non sento. Io vi riprendo, perché io faccio non parlo. E quindi, niente, poi dopo balleremo con degli appositi vestiti neri e un po' rossi. Da buro, proprio. Da diavolo, così, no? Dall'inferno. No, dai. E niente, adesso vi facciamo vedere chi c'è a questa festa, cioè al compleanno. Allora, c'è Nicolás. Il migliore youtuber salmondo. Anche se non ha un canale. E poi ci sono questi. Qui c'è la Giulia che si è messa a giocare. Brava Giulia, vuoi salutare? Ma comunque non serve il papà della nuova. È stanca la Giulia. Poi qui c'è Mirko. La Martina, Martina. Mia sorella. Nico. Pier. Matteo, mio fratello. E gli altri non so dove siano. E basta. Allora ragazze, finisco il vlog molto prima. Comunque c'era anche la Carly. Però ho dovuto andare via un po' prima perché avevo un impegno. Finisco il vlog prima perché così lo metto subito subito a caricare. Quindi, se questo vlog vi è piaciuto, pollice in su, qui sotto nell'info box. Trovate tutti i miei social. E dove seguire la Martina e la Giulietta, gli altri non vi metto. E io vi mando un grosso bacio e al prossimo video. Ciao!